Studentessa di pianoforte, ha partecipato nel 1956 ai provini effettuati da De Sica per la ricerca della futura protagonista del film Il tetto, riuscendo a superare tutte le altre concorrenti. L'uscita del film nelle sale le ha procurato una grande e improvvisa popolarità, culminata con la noce d'oro assegnata alle come migliore giovane attrice debuttante. Scritturata in seguito da registi come Michelangelo Antonioni e Mario Monicelli, divenne una delle attrici più promettenti degli anni 50. Anche se i film successivi non le permetteranno di mantenere le promesse dei primi lavori, impegnata di frequente nei film e commedia e nel cinema storico degli anni 50. Ha lavorato insieme ad attori come Nino Manfredi, Walter Chiari, facendosi dirigere da importanti registi come Steno e Gianni Puccini. È stata spesso scambiata, data la somiglianza, con la collega Lorella De Luca, Saltuari e le sue partecipazioni alla prosa teatrale e televisiva. Chiuderà la sua carriera nel 1977.